Il Consiglio Comunale di Avellino all'unanimità ha approvato la delibera per l'acquisizione sanante per la proprietà del suolo del Centro per l'Autismo di Valle. Una giornata importantissima per la città e le famiglie dei ragazzi autistici che attendevano da anni il raggiungimento di questo obiettivo. La somma definita è di 501.400 euro. La cifra è stata quantificata dall'ufficio espropri del Comune e verrà trasmessa ai proprietari dell'area. sull'iter dell'affidamento del Centro di Valle potrebbero comunque intervenire nuove controversie o ricorsi se la cifra non venisse ritenuta congrua. L'acquisizione sanante resta un passaggio comunque decisivo. Senza ulteriori ricorsi la pratica protadissi chiusa in aula 23 voti favorevoli di cui 6 della minoranza. Il passo successivo è l'affidamento all'Asla di Avellino che ha già predisposto un impegno per Valle di circa 1.200.000 euro. Soldi che serviranno per l'attivazione dei servizi e delle utenze e nel contempo aumentare le prestazioni e le ore di terapie per ragazzi e bambini affetti dall'ospetto autristico. L'Asla Avellino ha indetto un nuovo bando per 23 milioni di euro da spendere nel prossimo triennio per la realizzazione di trattamenti domiciliari e scolastici rivolti a bambini dai 2 ai 13 anni e per l'affidamento dei servizi relativi alla gestione del centro semiresidenziale di Sant'Angelo per adolescenti e giovani adulti. Oggi chiudiamo un iter amministrativo che si è trascinato 20 anni, commenta il sindaco Festa che ha annunciato. Stiamo già lavorando per la realizzazione di un centro di ricerca per i disturbi neuropsichiatrici che farà del centro di Avellino un polo di eccellenza per tutto il mezzogiorno. Contestualmente lavoriamo all'housing sociale a Valle affinché anche le famiglie abbiano la possibilità di avere un luogo vicino per stare con i propri figli. Nell'ambito del Consiglio Comunale è arrivato anche Lucchè a rendiconto.